ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube se vi dico flying bear voi a cosa pensate senza dubbio alla stampante 3d flying bear ghost 5 o ancora meglio alla reborn che l'evoluzione della ghost 5 e se vi dicessi che adesso c'è anche l'incisore laser della flying bear la serman con un modulo laser da 5 watt e mezzo capace di tagliare senza problemi e che incide benissimo su diversi materiali adesso vi farò vedere la particolarità di questo incisore laser perché a vederlo così sembra semplicemente un incisore laser come tutti gli altri che incide e basta ma questo è il wifi questo ha un display a colori touchscreen che ci permette di comandare la macchina in modo comodo come se fosse un piccolo computerino è anche una particolarità importantissima che è una novità nel mondo degli incisori laser almeno io non ne ho mai visti e si tratta di questa piccola scatoletta nera alle spalle in realtà questa scatoletta non è altro che un aspira fumi ed effettivamente funziona bene io temevo che potesse funzionare poco viste le dimensioni ragazzi ho inciso vedrete un pezzo molto grande l'ho anche tagliato e nella stanza non c'era fumo un po di odore effettivamente si percepiva ma questo incisore laser taglia bene incide bene e ha questa novità davvero eccezionale adesso la mettiamo sul bancone e vi faccio vedere come è fatto è quello che sono riuscito ad ottenere ma prima ricordatevi andare a guardare giù il link nel primo commento e nella descrizione perché potrei associare il link di questo prodotto ad un codice di sconto quindi permettervi di risparmiare qualcosa ma quanto costa attualmente mentre sto registrando costa 369 euro e oggi è sabato 23 luglio 2022 per l'esattezza sono pure le 23 e 20 quindi è notte per questo la faccia così stanca adesso quindi mettiamolo davvero sul bancone e vediamo come è fatto appunto a quello che sono riuscito ad ottenere iniziamo no 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 aspettate non iniziamo mi stavo dimenticando di dirvi ma ve l'avrei detto comunque durante la recensione che viene dato in dotazione anche questo asse rotante che ci permette di incidere sulle superfici cilindriche quindi in questo caso una borraccia in acciaio adesso iniziamo davvero ed ecco quindi l'incisore laser in tutta la sua bellezza allora premessa non vi farò vedere il video dell'unboxing e del montaggio perché sul sito ufficiale flying bear troverete tutti i video molto dettagliati quindi le guide passo passo per il montaggio della struttura e dei vari componenti allora comunque la struttura in alluminio con profili da 20 per 20 effettivamente ci sono molti componenti però non è difficile e allora iniziamo quindi a guardare cosa ci ritroviamo davanti una volta finito il montaggio innanzitutto questa bella console di comando allora io all'interno abbiamo la scheda madre ovviamente con i vari ingressi questo è l'ingresso per la micro sd questo è l'ingresso per la connessione usb e dall'altra parte ci sono i connettori per poter collegare tutti i vari motori modulo laser eccetera al centro abbiamo anche un display display a colore il tasto di accensione va premuto fino in fondo per poterlo accendere poi nuovamente per poterlo spegnere sulla destra troviamo anche un led che ci indica eventuali stati di allarme da questa parte in alto troviamo anche questo accessorio che serve come distanza per poter mettere a fuoco come vedete sul modulo laser che osserveremo fra poco ci sono questi tubi e questi particolari tubi uno serve a mantenere i cavi ordinati quindi in modo che non ci siano cavi volanti e questo invece è la chicca di questo incisore laser perché guardate sulla parte bassa abbiamo questo pezzo stampato in 3d che come vedete arriva fino a questa parte qua indietro questo è un aspiratore dotato di una ventola molto potente che riesce ad aspirare tutti i fumi e vi farò vedere i video durante le incisioni e nell'ambiente non si forma assolutamente fumo adesso parliamo anche delle caratteristiche tecniche del modulo laser innanzitutto guardiamo come si mette a fuoco abbiamo detto che si deve utilizzare questo pezzo che viene dato in dotazione si mette sul pezzo da incidere si svita questa vitina dopodiché si abbassa si riavvita e sarà possibile rimuovere il pezzo da sotto per avere la distanza corretta per quanto riguarda la messa a fuoco il punto focale di questo modulo laser non è effettivamente piccolissimo e 0,08 per 0,1 si sono visti incisori laser con un punto focale più stretto effettivamente però devo riconoscere che il risultato comunque è eccezionale si comporta come un modulo laser con un punto focale molto più piccolo l'area di incisione invece da 40 x 45 cm considerate però se dovete posizionarlo su una scrivania che non abbia molto spazio dovete sommare a questa misura circa 10 cm per quanto riguarda la sporgenza nella parte frontale del controller e altrettanto per quanto riguarda la sporgenza del filtro posteriore dalla parte opposta troviamo queste cinghie a carri armato all'interno della quale ci sono altri cavi ovviamente si muove assieme al movimento dell'asse y e quindi ci permette di avere movimenti fluidi senza cavi fra i piedi questi sono i motori che azionano tutti i movimenti sono dei motori comunque relativamente silenziosi e ovviamente la macchina è dotata anche di limit switch quindi sensori di fine corsa che consentono di avere sempre la stessa posizione quando la macchina va in homing quindi nel caso in cui si debbano ripetere dei passaggi su incisioni già realizzate o sui tentativi di tagli siamo sicure che la macchina andrà esattamente nel punto in cui si trovava quando aveva iniziato il lavoro e ritornerà a incidere nello stesso punto sul profilo di sinistra e sull'asse centrale troviamo questi riferimenti inizialmente mi sembravano riferimenti in pollici invece sono centimetri non capisco però perché li abbiano riportato in questo modo per quanto riguarda la velocità di incisione diciamo che io sono riuscito a incidere senza alcun problema anche più di 5.000 mm al minuto però la macchina può raggiungere nel caso in cui non sia necessario avere molta precisione anche 10.000 mm al minuto ovviamente con quella velocità anche se è impostato al cento per cento avremo dei risultati non eccellenti per quanto riguarda la capacità di incisione però comunque la macchina è capace di raggiungere quella velocità l'altezza massima dei pezzi da incidere deve essere di 58 mm considerando che il modulo laser alla massima escursione ci lascia 60 mm e dobbiamo avere un paio di millimetri per la messa a fuoco abbiamo circa 58 mm come spazio per poter incidere effettivamente più che sufficienti anche se si utilizza una griglia di taglio nella parte interna del controller quindi rivolta verso l'area di lavoro abbiamo anche questo sensore di fiamma che eventualmente interviene staccando l'incisione ovviamente in dotazione troveremo anche del materiale per fare alcune prove manuale di istruzione con un pennino che ci permette di leggere le micro sd il manuale di istruzioni anche illustrato a colori all'interno troviamo l'elenco dei componenti per l'esattezza 40 componenti non scoraggiatevi sembra molto difficile in realtà poi si monta praticamente in poco tempo ci sono anche alcuni consigli per quanto riguarda poi le regolazioni alcune informazioni sui comandi del display e nell'ultima pagina troviamo pure alcune informazioni con dei consigli con i parametri corretti per poter eseguire alcuni lavori sia per quanto riguarda le incisioni che per quanto riguarda i dettagli e questo è un filtro il ricambio che va messo eventualmente al posto di quello che c'è attualmente all'interno dell'aspiratore e questa è un'altra chicca infatti è il modulo che si permette di incidere le superfici cilindriche con dei risultati effettivamente piacevoli ma a proposito di risultati i ragazzi concentriamoci su quello che sono riuscito ad ottenere sia sul compensato sul cartone sul legno di un certo spessore quindi stiamo parlando di un centimetro di abete sul foam per rimballaggio del trasporto di materiali delicati e poi sulla plastica effetto alluminio effetto metallo nella mia sigaretta elettronica allora iniziamo come sempre dalla tabella questa è una tabella molto importante perché permette di capire sia come lavora l'incisore laser che quali sono le impostazioni necessarie per poter lavorare correttamente quindi facendo la prova con 200 mm al minuto vediamo che già al 60 per cento con tre passaggi il pezzo si stacca automaticamente dal 70 per cento in poi anche con due passaggi sempre 200 mm al minuto i pezzi si sono staccati guardiamo dalla parte posteriore vediamo che a 60 per cento con un solo passaggio e al 100 per cento con un solo passaggio mancava pochissimo quindi forse bastava diminuire la velocità di pochissimo per riuscire ad ottenere un taglio ma comunque già con questa velocità e questa potenza stiamo parlando di una velocità che non è bassissima solitamente si utilizzano i 100 mm al minuto per fare queste prove ma io non voglio mai utilizzare velocità troppo basse potenze troppo alte non avrebbe senso quindi 200 mm al minuto ci permette di lavorare correttamente impiegare meno tempo rispetto ai 100 mm al minuto e ottenere comunque dettagli soddisfacenti e allora parlando proprio di bruciature a questo punto guardiamo le scritte sono venute benissimo non ci sono segni di bruciatura anche se questo incisore laser non è provvisto di air assist lo stesso per quanto riguarda tutto il resto delle incisioni le uniche bruciature le troviamo nei tagli o comunque nei tentativi di tagli perché anche dove non ha tagliato ci sono delle bruciature questo è inevitabile perché non è presente l'air assist ma ovviamente possibile stampare tramite una stampa 3d quindi evitare anche queste bruciature guardiamo anche questi tagli 200 mm al minuto dettagli molto piccoli e a parte queste bruciature effettivamente ha tagliato quasi tutto ogni modulo laser alle proprie prestazioni la propria dimensione del punto laser e quindi i risultati differiscono di poco fra un incisore un altro guardate anche le fotografie sono venute bene pure queste c'è un ottimo contrasto soprattutto su questa in basso 2300 mm al minuto 70 per cento di potenza il risultato è molto soddisfacente si è dettagli del drone la mia foto quindi i capelli gli occhiali la differenza nel colletto della felpa le onde del mare insomma le nuvole si vede tutto molto bene lo stesso per quanto riguarda i riempimenti ragazzi è uno degli incisori laser con la gradualità più perfetta guardate dal 20 al 60 per cento come è riuscito ad incidere appunto in proporzione con una tonalità sempre più scura lo stesso per quanto riguarda il mio logo 3000 mm al minuto al 40 per cento di potenza e poi a 1500 mm al minuto dal 40 al 100 per cento anche le scritte sono venute bene secondo me quella migliore potrebbe essere 1500 mm al minuto 60 o 70 per cento il resto potrebbe risultare un po troppo scuro oppure un po troppo chiaro come dico sempre nelle incisioni è sempre una questione di gusti anche il pezzo è stato ritagliato da un pannello intero di compensato di betulla da 3 mm ed è stato tagliato al 90 per cento di potenza con due passaggi questi sono gli scarti della lavorazione poi ho voluto provare ad incidere un puzzle con una foto che però ovviamente il puzzle è già stato montato da mia figlia quindi sono riuscito a recuperare solo questi pezzi e come vedete effettivamente sono venuti bene c'è un contrasto che effettivamente andava migliorato però per quanto riguarda i tagli la precisione dei pezzi anche questo mi ha soddisfatto la foto era un po sovraesposta è stata scattata all'interno dell'abitacolo dell'automobile e quindi i volti erano un pochettino abbagliati però tutto sommato diciamo che a parte qualche impostazione che avrei potuto cambiare il risultato è soddisfacente confusionario ma per tecnicamente per quanto riguarda il lavoro dell'incisore laser sono rimasto più che soddisfatto ho fatto la prova anche a tagliare il cartoncino ormai deciso che se lo ricordo su tutti gli incisori laser che regentisco voglio fare questa prova guardate come ha tagliato molto bene a 1000 mm al minuto con l'80 per cento di potenza in 15 secondi questo pezzo di cartoncino ricavandolo da questo qua quindi non ci sono bruciature il risultato è molto soddisfacente la velocità è stata molto elevata non fate caso al fatto che contorni siano irregolari perché questa spirale è disegnata proprio in questo modo il file vettoriale aveva proprio la forma che vedete sul cartoncino poi ho voluto provare con i 10 mm non mi sono spinto oltre probabilmente ce l'avrebbe fatta ma ritengo che per un utilizzo hobbistico già 10 mm sono esagerati il fatto che riusciamo a sapere che l'incisore laser capace di tagliarli per noi è una sicurezza perché se dovessimo averne bisogno sappiamo che lo fa comunque è riuscito a tagliare ci sono pochissimi segni di bruciature solo da un lato quindi questo è il pezzo che si è staccato dal pezzo più grande è anche questo presenta da questa parte un po di bruciatura da questa parte invece molto di meno ho voluto fare una prova per vedere se riusciva a tagliare il form ed è riuscito a tagliarlo con una pulizia di taglio che mi piace tantissimo anche in questo caso vorrei utilizzarlo per fare dei box per trasportare oggetti sagomandolo in modo che abbia la forma perfetta per alloggiare gli oggetti a trasportare e secondo me il risultato è soddisfacente considerate stiamo parlando di almeno 12 mm con i parametri che metterò in sopra impressione ora guardiamo invece quello che mi è piaciuto tantissimo guardate che bel risultato sono riuscito ad ottenere su questa sigaretta elettronica un risultato fantastico sia per quanto riguarda riempimento che per quanto riguarda il contorno ma anche le parti molto piccole davvero un risultato eccezionale ottimo contrasto ottimi dettagli ragazzi non so più cosa dire per definire quanto mi possa piacere questo risultato io non sono un grande bevitore di jack daniel se mi piace ogni tanto sorseggiarlo ma mi piace più che altro il logo e ora vediamo invece il risultato che sono riuscito a ottenere sull'acciaio questa è una borraccia dell'ikea allora innanzitutto ho commesso degli errori in questo caso scritto alice mi sono accorto che c'era l'etichetta quindi ho spostato di poco ci sono le due sovrapposte ma non risolto nulla perché l'etichetta l'ho colpita lo stesso quindi comunque il risultato mi piace tratto ovviamente fino perché il punto d'incisione è sottile se avessi voluto ottenere una linea più spessa avrei dovuto realizzare un riempimento comunque inciso molto bene ed è una vera incisione non si rimuove si sente anche al tatto con l'unghio da questa parte ho inciso questo fiore grazie all'accessorio rotante si riescono ad ottenere risultati di questo tipo anche su pezzi di legno insomma tutto ciò che cilindrico può essere inciso si può mettere su questo accessorio rotante quindi inciderlo per tutto il perimetro e come vedete da queste immagini durante l'incisione non si forma assolutamente fumo nell'ambiente tutto il fumo viene ispirato effettivamente da questo sistema aspirante il tutto viene filtrato poi dal filtro all'interno della scatolina e anche se si percepisce effettivamente l'odore di bruciato all'interno dell'ambiente un po perché comunque l'aria fuoriesce quindi il ricircolo riporta l'aria sempre nello stesso ambiente vengono filtrati fumi ma gli odori un po si percepiscono non sono intensi ovviamente come quando si incide senza alcun tipo di aspiratore però effettivamente si percepisce che c'è del bruciato all'interno dell'ambiente e poi perché sicuramente per quanto possa funzionare bene questo sistema di aspirazione possibilmente qualcosa scappa dovete considerare però che quando realizzate i tagli il fumo spesso si forma sulla parte inferiore del pezzo in quel caso ovviamente non verrebbe aspirato e quindi si disperderebbe nell'ambiente e quindi dovete tenere in considerazione anche questo dettaglio ma nel caso in cui si taglino dei pezzi piccoli oppure delle tagli che siano lungo il bordo del pezzo che state tagliando in quel caso l'aspiratore riesce ad aspirare anche i fumi che provengono da sotto anche se non del tutto comunque una buona parte e allora adesso è arrivato il momento di farvi vedere il display e qualche altra caratteristica quindi colleghiamo l'alimentatore da 12 volt 4 ampere e accendiamolo e allora quindi si accende premendo questo tastino emetterà dei bip che stanno ad indicare che l'incisore laser è stato acceso quindi se qualcuno non autorizzato dovesse accenderlo verremmo avvisati dal segnale acustico e potremmo intervenire si accenderà anche il display mostrandoci le prime informazioni quindi guardate ok a questo punto c'è il logo della flamber e poi la schermata che per grafica e per alcuni comandi ci ricorda tantissimo quelle delle stampanti 3d allora abbiamo la possibilità di variare alcune impostazioni possiamo decidere se utilizzare o meno l'accessorio per incidere le superfici cilindriche togliere il bip di quando si premono le varie icone scegliere il linguaggio però montaneamente è disponibile solamente in inglese ed in cinese ma vengono rilasciati molto frequentemente degli aggiornamenti quindi anche la lingua verrà aggiunta sicuramente anche in italiano questo è invece il comando che ci consente di decidere se attivare o meno l'aspiratore che si accende solo ed esclusivamente quando incidiamo utilizzando il display quindi scegliendo i file dalla sd questo è il comando che ci consente di muovere i vari assi esattamente come sulle stampanti 3d però ovviamente manca il comando per l'asse z in questo caso c'è semplicemente il comando per attivare disattivare il puntino del laser abbiamo la possibilità dopo aver spostato i vari assi di disattivare motori esattamente come le stampanti 3d e possiamo decidere anche se si deve muovere di 01 un millimetro oppure dieci millimetri come avrete visto dal grande adesivo posto nella parte posteriore di questo controller questo incisore è anche wifi io l'ho già connesso alla mia rete comunque ci permette tramite il telefonino oppure tramite il computer di comandare l'incisore ma io preferisco utilizzarlo dal display oppure direttamente da light burn che è un programma molto completo ma all'interno della scheda trovate comunque anche il software per poterlo fare funzionare quindi immediatamente potrete utilizzarlo e questo è il comando che ci permette di scegliere i file una volta premuto poi ci permette di dare comandi spostare il modulo laser eccetera fino all'incisione ma ora vediamo come si collega questo accessorio questo asse rotante che ci permette di incidere le superfici cilindriche allora io ho già disconnesso il cavo che ci permette di comandare il motore dell'asse y quindi collego al suo posto questo connettore che è collegato all'accessorio rotante ha già dato segni di vita quindi a questo punto vi faccio vedere semplicemente che muovendo gli assi se io muovo l'asse y ruoterà come vedete perché questo diventa l'asse y della macchina ed è possibile anche regolare la distanza tra i due assi in gomma per in realtà sono in metallo ma rivestiti di gomma nel caso in cui dobbiamo incidere qualcosa che abbia un diametro un pochettino più piccolo e allora ragazzi quindi che cosa dire di questa macchina questo incisore laser che permette di tagliare anche un centimetro ma sicuramente riuscirebbe a tagliare pure di più perché l'ho tagliato praticamente subito solitamente uno vista lavora con 3 mm quando riusciamo a tagliare 10 mm bastano e avanzano anche la possibilità di incidere su superfici cilindriche effettivamente visto che è incluso nel prezzo è ancora più interessante solitamente questo tipo di accessorio si acquista parte in questo caso riusciamo a ottenere dei buoni risultati anche per esempio su penne sul borraccio tante superfici cilindriche possiamo decorare il nostro reggimento possa dire secondo me è un prodotto molto valido ma quello che lo rende particolare è proprio questo filtraggio dell'aria che ci permette di non respirare tutti quei fumi anche se in parte probabilmente qualcosa rimarrà nell'ambiente perché per quanto possa filtrare comunque le sostanze tossiche insomma forse areando il locale sicuramente è meglio ma così è meglio di tanti altri che non hanno nemmeno questo quindi già è un grande aiuto per il resto incide bene facile da utilizzare avete visto l'ampio display che ci permette pure di dare comandi gestire anche tramite wifi e gestire direttamente alla stampa e avviarla dal display quindi ci dà la possibilità di preparare tutto al computer salvare un file che deve essere in formato g code andare in garage e avviare la stampa dotato anche di diversi sistemi di sicurezza quindi sensori di fiamma insomma tutti i sistemi di cui sono dotati oggi gli incisori laser e che quindi ci permettono di lavorare anche in sicurezza ragazzi detto questo non mi resta che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad andare nel link per vedere il prodotto sul sito del venditore ed eventualmente se mi danno un codice di sconto cercherò di farvi risparmiare qualcosina quindi se vi è piaciuto il video cliccate sul tastino con il pollice all'insù cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto